Di giorno via Avanza è una strada dimenticata da tutti tra degrado e cantieri abbandonati. Di notte sono perfino tornate a esercitare la loro attività le prostitute che non si vedevano da un paio d'anni, come testimoniato dal video girato in questi giorni e inviato da un nostro telespettatore. Eppure questa strada è il biglietto da visita di Padova per chi esce dalla stazione dal lato posteriore. Il sottopassaggio che porta i binari scarica su via Avanza centinaia di pendolari e visitatori ogni giorno, ma l'impatto è devastante tra ruspe, cartelli e voragini. Si vede la fine, non si sa niente, è diventato proprio una schifezza. Mi dispiace, Padova era una bella città e adesso è diventata quello che vede. E come se non bastasse a peggiorare la situazione c'è questo cantiere. Doveva collegare semplicemente i due lati della strada, 10 metri di disastro totale. Lo scavo è completamente allagato tra sporcizie, immondizie, topi e il pericolo di cadere dentro quel buco nero, visto che è evidente come ci sia gente che si siede sul pelo dell'acqua per bere o fare chissà cos'altro. Aperto nel 2014 non ha una data di fine lavori. La prossima settimana l'assessore Michalizzi dovrebbe incontrare i dirigenti della rete ferroviaria. Io sono una pendolare, mi farebbe piacere fare sottopassaggio perché per prendere il treno sarebbe più agevole. E lì a una manciata di metri sarà aperta nella cosiddetta Casa Rossa la nuova sede dell'azienda Zero con 300 dipendenti a gestire la sanità padovana che faranno lo slalom tra cantieri, degrado e sabbie mobili.